Per tutta la settimana ti sei chiesta, oppure ti sei chiesto, il significato di questo pota verb. Qui, in parte, puoi cattare fuori il bottone iscriviti. Cliccaci sopra e attiva la campanella delle notifiche. Siamo ancora in arancione rafforzato? Giallo ocra? Giallo paglierino? Iniziano a starmi sulle balle anche i colori, ormai. In ogni caso non ci si può incontrare sul set per girare e gli innamorati non possono parlarsi. Certo che io con no! Io parlo cosa? I? I? E? Non ne ho la minima idea. Parla, parlano, ma cosa accidenti vuol dire? Si parlano. Si parlano, dai! È come dire escono, si vedono, hanno una relazione. Cioè ma hanno una relazione platonica? O hanno una relazione di quelle come si deve? Perché platonica è platonica. Picchiano fuori di quelle t***e. Allora perché dire si parlano e non escono, si vedono? P***a perché è più politically correct? Era molto usato tanto tempo fa. Mia nonna diceva sempre... Sì, il Fernando e la Berta. Si parlano. È già da due anni. Nella consapevolezza che Berta e Fernando in questi due anni abbiano parlato un sacco ma anche nella speranza che abbiano anche fatto altro, invito Berta, Fernando e te a lasciare un like al video, a guardare gli altri video sul canale e a commentare suggerendoci altri potoverbs per le prossime puntate. Si parlano dai, è come dire escono, si vedono, hanno una relazione.